Finalmente ce l'abbiamo fatta, anche Roma ha un piccolo appartamento istituzionale di Housing First. Questa è la prima esperienza realizzata con Roma Capitale e siamo orgogliosi di poterla fare noi di Binario 95. Non per niente si chiamerà Casa 95. Una bella combinazione che oggi andremo ad incastrare con questo primo incontro che speriamo vada, noi immaginiamo bene perché siamo molto fiduciose e quindi poi l'entrata in casa. Bene, bene, sta bellissima notizia. Daremo l'opportunità a persone del circuito dei Senza Fissa di Mora, la possibilità di ritrovare uno spazio casa, uno spazio dove potersi sentire di nuovo all'interno di una società, dove possono contribuire e trovare un loro spazio. Ospiteremo quattro beneficiari, quindi sarà una coabitazione e saranno quattro adulti uomini. Abbiamo già iniziato un percorso di selezione, faremo in modo che le persone appunto possano conoscersi per avere la possibilità di scegliere, di aderire al progetto e di scegliersi reciprocamente. Grazie a tutti! Grazie a tutti!